Gli appuntamenti a Teramo per la settimana santa di Pasqua subiranno dei cambiamenti a causa del Covid, lo annuncia la diocesi di Teramo Atri che annulla per venerdì pomeriggio la processione del Cristo morto per le vie del centro cittadino. All'alba di venerdì santo è però confermata la processione antelucana dedicata alla Madonna addolorata che si svolgerà non in strada ma nel Duomo a partire dalle 5.30. Il Vescovo Lorenzo Leuzzi che celebrerà la messa di Pasqua nella cattedrale di Atri invita tutti ad un momento di raccoglimento speciale intorno alla tomba vuota di Cristo. I riti pasquali in questo periodo di Covid come saranno? Ma credo che ringraziamo il Signore che quest'anno avremo la possibilità di celebrare il Trigio Pasquale insieme con la comunità ecclesiare certamente nei limiti dell'emergenza sanitaria ma potremo davvero vivere insieme il giovedì santo fino alla domenica. momenti veramente importanti abbiamo già vissuto la domenica delle Parme con una grande partecipazione sono certo che anche il Trigio Pasquale sarà una grande occasione per ritrovarsi insieme e riflettere sul cammino di Gesù verso il Sepocro poi il grande giorno della Pasqua. e poi abbiamo voluto conservare un momento di preghiera mariana a Teramo c'era la tradizione della processione della desorata non potremo fare evidentemente la processione però do appuntamento a tutte alle 5 e mezza di venerdì mattina per ritrovarci in cattedrale naturalmente sempre con i numeri contingentati ma un momento di preghiera tutti potranno unirsi delle proprie case potranno seguire anche attraverso i metodi della comunicazione degli occhi però è importante ritrovarsi insieme per essere con Maria in preghiera in attesa della domenica di Pasqua.